La dimostrazione Allora, noi sappiamo che esiste un L appartenente a R tale che B con N è maggiore o uguale di L per ogni N questo vuol dire che B con N è limitata inferiormente adesso diciamo sia M appartenente a R noi sappiamo che esiste un indice N tale che se N è più grande di N allora A con N è maggiore di M meno L per qual motivo? L è già esiste, già l'abbiamo fissato M l'abbiamo scelto arbitrariamente posso fare la differenza io quando vado a fare l'indice N leggo questo presente N che significa B con N più B con N è maggiore di M meno L più L che fa M fine della dimostrazione perché io ho dimostrato che per ogni M appartenente a R si sono incendiate che se N è maggiore o uguale di L allora A con N è maggiore di M Poi un altro, questo lo chiamiamo proprio esercizio prendiamo la successione di numeri ideali quindi lo fate voi quindi il limite di A con N fa più infinito cioè la successione diverge positivamente se e solo se il limite di meno A con N fa meno infinito cioè se una successione diverge positivamente ovviamente la successione opposta divergerà negativamente basta applicare la definizione anche qui è roba di mezzo ring allora come possiamo usare questi due lenti allora ci facciamo lo specchietto allora siete oltretutto masochisti perché poi il video con la lezione servirà a voi non a me se fate l'umore ve lo ritroverete non ci vuole d'acqua allora che specchietto vogliamo fare vogliamo costruire vogliamo costruire uno specchietto del comportamento della successione somma allora qua ci mettiamo il limite di A con N qua ci mettiamo il limite di B con N e qua andiamo a vedere il limite di A con N più B con N e B con N tende a M le proprietà algebliche dell'indice dicono che la successione somma tende A L più M esiste solo un'operazione diciamo tra somma e differenza la somma la differenza non è altro che la somma con l'opposto o se questa va a più infinito e questa va a M la successione somma che farà? più infinito perché se vi ricordate una successione che converge è anche limitata se è limitata è anche limitata inferiormente questa diverge positivamente e quindi la somma ovviamente la stessa cosa vale al contrario se questa va a L numero reale questa va a più infinito lo scrivo qua L tende numero reale la somma andrà a più infinito ovviamente se questa va a meno infinito questa va a M oppure se questa va a L questa va a meno infinito la somma andrà a meno infinito in tutti e due i casi cosa rimane? rimane il caso in cui rimangono ancora a vari casi per esempio più infinito più infinito che farà la somma? allora una successione che va a più infinito è definitivamente maggiore di un numero di qualunque numero prefissato quindi io ho visto un numero definitivamente maggiore di quel numero quindi in ogni caso è limitato inferiormente questa va a più infinito questa è limitata inferiormente è applicato sempre lo stesso tempo maggiore di un numero meno infinito meno infinito meno infinito finito rimangono più infinito meno infinito meno infinito meno infinito più infinito qua la risposta è boh perché se una diverge positivamente e una diverge negativamente la somma non si sa quello che fa bisogna vedere caso per caso e adesso andiamo a fare un altro aspettivo allora qui abbiamo successioni che divergono a più infinito anzi io posso prendere addirittura a con n posso prendere sempre la stessa successione prendo a con n uguale n allora andiamo a vedere b con n prendo e poi andiamo a fare facciamo b con n facciamo limite b con n poi facciamo il limite di a con n più b con n ah di n più b con n quando con n è uguale a n sappiamo che il limite di n fa più infinito allora per esempio prendo b con n uguale meno n più un certo l per esempio prendo meno n oppure meno n più 1 meno n più 1 meno n più 3 meno n meno 2 la somma questa qua a quanto tende? questa è una costante questa va a meno infinito la somma va a meno infinito facciamo prima b con n più b con n poi ne facciamo il limite quanto fa la somma? n meno n più l fa l e il limite fa l quindi come vedete una successione vale n l'altra successione vale meno n più 3 la somma fa 3 e tende a 3 se invece dipende meno n più 3 prendo meno n più 5 la successione questa critica è la stessa o stessa meno infinito però la somma continua cioè convergerà in quel caso a 5 continua a convergerà l non so se sono stato chiaro prendete per esempio meno n n meno n fa 0 e converge a 0 prendete meno n più 1 n sommato a meno n più 1 fa 1 poi posso fare a meno un mezzo n che diverge negativamente n meno un mezzo n fa un mezzo n che diverge a più infinito invece posso prendere meno 2n questo sempre tende a meno infinito n meno 2n stavolta fa meno n fa meno n diverge a meno infinito poi posso prendere n più meno 1 alla n anzi meno n più meno 1 alla n questo va a meno infinito perché questa è limitata questo va a meno infinito questo è b con n quanto vado a fare a con n n più b con n quindi viene n meno n più meno 1 alla n quanto fa meno 1 e il limite non c'è però uno potrebbe dire vabbè non c'è però almeno è limitata allora fate questa successione qua meno n quadro più meno 1 alla n scusate meno n più meno 1 alla n per radice di n questa successione mettendo in evidenza con radice di n vabbè questa successione si vede facilmente che va a meno infinito questa successione è più piccola di meno n più radice di n meno n più radice di n è più piccola di meno radice di n per esempio e quindi va a meno quando vado a fare la somma n meno n più meno 1 alla n per radice di n fa 1 alla n per radice di n la successione qui non ha limite e non è neanche limitata cioè me ne posso inventare di questi esempi quanti ne voglio vedete addirittura la successione a con n l'ho presa sempre uguale variando la successione di con n posso fare in modo che a con n diverga a più infinito e vabbè era fissa diverge a più infinito quindi lo sappiamo sempre posso fare in modo che b con n diverga a meno infinito ma posso fare in modo che a con n più b con n faccia quello che mi pare allora voi adesso tutti quegli esempi possono rientrare in questo schema qui vi faccio un esempio un po' più difficile questo chi lo capisce chi lo capisce chi non lo capisce non fa niente allora supponiamo di prendere una successione c con n arbitraria quindi qualunque successione ok adesso io posso prendere posso prendere a con n uguale al a n più il valore assoluto di c con n questa sicuramente diverge a più infinito poi poi vediamo posso prendere b con n uguale meno n perché diverge a più infinito perché è più grande di n n diverge a più infinito questa diverge a più poi posso prendere n b con n uguale a meno n meno valore assoluto c con n più c con n allora questo numero è negativo perché è meno valore assoluto più c con n quindi questa è minore o uguale a meno n quindi questa qua tende a quindi vedete una diverge positivamente l'altra diverge negativamente quanto fa con n più b con n no quanto fa non ho chiesto se è indetermiato o no capito l'italiano quanto fa quanto fa quella somma siete in grado di fare questa somma fa c n n meno n se ne va valore assoluto di c n valore assoluto di c n se ne va che rimane? c n quindi questo unico ragionamento ingloba tutti quelli là perché cosa dice? dice che io posso fissata una successione c con n arbitraria trovare una successione che diverge positivamente una successione che diverge negativamente tale che la somma faccia quello che pare a me è chiaro? quindi io ce n'ho una che diverge a infinito una che diverge a meno infinito la somma la posso far venire quello che mi pare non so se è chiaro posso aggiustare le cose in maniera rarca questa diverge a più infinito questa diverge a meno infinito e questa è quello che mi pare per esempio 3 per esempio 7 per esempio meno 1 alla n per esempio n per esempio n quadro più radice di n per esempio n più seno di n quello che mi pare quindi si dice che queste due questi due casi corrispondono a una forma indeterminata indeterminata perché non lo possiamo sapere a priori quello che succede ma dobbiamo andare ad esaminare caso per caso poi caso per caso i conti magari si riescono a fare nel primo caso con merce a L nel secondo a più infinito nel terzo a meno infinito nel quarto nel quinto il limite non esiste è chiaro? ok va bene e questo è diciamo quello che possiamo dire sulle proprietà sempre quando riguarda la somma quindi quando andiamo a dire più infinito più 5 più infinito non significa che io possa fare la somma di più infinito e 5 e faccia più infinito significa che se una successione per esempio diverge a più infinito e l'altra diverge a 5 l'altra converge a 5 la successione somma diverge a più infinito ok trovo la somma che ci sta il prodotto e qui uno dice vabbè c'è il prodotto e c'è il rapporto il rapporto non è altro che il prodotto con il reciproco che Allora facciamo prima le forme del prodotto e poi parleremo del reciproco. Allora, qua abbiamo i limiti di A con N. Qua abbiamo il limite di B con N e qua andiamo a vedere se ci sta il limite di A con N per B con N. Allora, noi sappiamo che se questa tende a L e questa tende a M, questo tende a L per M. Adesso, prima ho fatto tutti i casi a sinistra e a destra. E' inutile che per esempio il più infinito lo metta da tutte e due, cioè faccio più infinito più M o L più infinito. E' chiaro che l'addizione è commutativa. Quindi, una volta fatto il primo caso, il secondo segue immediatamente. Allora, se questa diverge a più infinito e questa tende a un numero M positivo, allora il prodotto diverge positivamente. Se invece questa tende sempre a più infinito, ma questa tende a un numero M negativo, il prodotto diverge negativamente. meno infinito M positivo, meno infinito M negativo, abbiamo più infinito. Inoltre, adesso l'abbiamo più infinito M meno infinito Se una diverge e l'altra va a zero, sul prodotto non si sa nulla. Allora, supponiamo che a con n tenda per esempio a più infinito, poi abbiamo fissato una successione c con n arbitraria, allora io posso prendere, cosa posso prendere? Per far venire la prima successione, la prendo a con n più più, vediamo un po', più n per valore assoluto di c con n la posso prendere n per valore assoluto di c con n più 1 questa qua continua a divergere a più infinito poi posso prendere c con n fratto a con n non mi serve n per valore assoluto di c con n più 1 questa perché diverge a più infinito perché se lo so di c con n è maggiore o uguale a zero più 1 è maggiore o uguale a 1 per n è maggiore o uguale a n, se ne va più 1 adesso prendete questa questo pezzo qui è più piccolo di 1 quindi questa qua è più piccola di 1 su n in valore assoluto, questa qui tende a zero tende a zero, il denominatore è diverso da zero o il prodotto di queste due quanto fa? c con n, quindi anche qui io posso trovare una successione divergente una che converge a zero in maniera tale che il prodotto venga quello che mi parla a me facciamo un esempio ma uno dice così non lo capisco per esempio a con n fa n b con n fa c a con n per b con n fa c qui il limite la prima va sempre a più infinito la seconda va sempre a zero la testa si vede questa va a n questa va a n questa è 1 su n quadro il prodotto fa 1 su n la prima fa n quadro la seconda fa 1 su n il prodotto fa n che va più infinito la prima fa n la seconda fa meno 1 alla n fratto n, questo va più infinito questo va a zero il prodotto fa meno 1 alla n che è il limite del giorno e così via cioè posso fare anche qui tutti gli esempi che voglio per ottenere una successione c quadro n è arbitraria pur partendo dal fatto che questa vada più o meno più infinito e questa vada più o meno quindi si dice che questa qui è la forma indeterminata del prodotto quindi la forma indeterminata della somma è più infinito o meno infinito non si riesce a dare un significato a questa operazione nel senso dei limiti cioè il limite della somma non si sa quanto va se la prima va più infinito l'altra va meno infinito il limite della somma non si sa quanto va invece per quanto riguarda il prodotto se una va più infinito o meno infinito l'altra va a zero sul prodotto non si può dire nulla in generale bisogna andare a vedere caso è caso ok però uno dice vabbè però tu mi devi andare a vedere anche il reciproco quanto dove va perché io devo fare anche il rapporto il rapporto è il prodotto con il reciproco quindi devo fare più il reciproco che poi spiegare il prodotto questo tabellino per quanto riguarda il reciproco se vi ricordate qua dobbiamo introdurre una un'altra definizione definizione si dice che il limite per n che tende a più infinito di a con n è uguale a l più se solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di zero esiste un indice in ni tale che se n è maggiore o uguale in ni allora a con n è compreso tra l ed l più epsilon ovviamente qua ci possiamo mettere l meno e qua ci mettiamo l meno epsilon in questo caso diciamo che a con n tende a l da destra o da sinistra ok o allora proposizione se il limite di a con n è uguale a zero più cosa succederà al limite di 1 su a con n questo è uguale a più di 1 praticamente questo è equivalente al fatto che diciamo supponiamo che a con n a con n è maggiore di zero per ogni n così evitiamo problemi di 2 di 10 se è maggiore di zero in ogni caso direzzo attraggiamo su pressione posizione ok ok perché vale questa proposizione perché facciamo una dimostrazione dimostriamo per esempio questa diciamo che sia m maggiore di zero maggiore di zero sì vabbè maggiore di zero allora esiste un indice n tale che se n è più grande di n allora a con n è minore di 1 su m e ovviamente se vi ricordate gli a con n erano tutti positivi che vuol dire che vuol dire che 1 su a con n è maggiore da un certo punto in poi questo è un epsilon positivo di a con n sono come a con n tende a zero da destra è compreso da zero e 1 su m che vuol dire che invece è maggiore ok se invece voglio fare la freccia opposta la freccia opposta la faccio qua dico sia epsilon maggiore di zero esiste un indice n tale che se n è maggiore uguale di n allora 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 1 su a con n è io so stavolta che 1 su a con n tende a più infinito è maggiore di 1 su epsilon il che vuol dire che a con n è compreso la zero quindi per poter valutare cosa fa il reciproco bisogna avere una certezza sul segno cioè sostanzialmente se a con n tende a zero il reciproco tende a più infinito e viceversa però ci sono due problemi uno che il reciproco potrei non farlo non poterlo fare perché se a con n vale zero come faccio fare il reciproco infatti se vi ricordate noi avevamo i due remi sia con n tende a e l in particolare per il treno la permanenza del segno definitivamente era diverso da zero il reciproco definitivamente si poteva fare qua stiamo presupponendo che la successione adesso se invece supponiamo che la successione converga a zero da destra o da sinistra allora sappiamo che la successione è diversa da zero e se converga a zero da destra il reciproco è più infinito e viceversa quindi se è solo sempre ovviamente questo non lo lascio per esercizio se la successione tende a zero da sinistra il reciproco che farà andrà a meno infinito per esempio 1 su n tende a zero il reciproco fa n va più infinito meno 1 su n tende a zero da sinistra stavolta il reciproco fa meno n quindi questo completa il quadro perché adesso qualcuno potrebbe dire chi è la forma indeterminata del rapporto quindi se voglio fare a con n su b con n allora forma indeterminata del rapporto quindi è più o meno infinito su più o meno infinito e zero su zero per quale motivo se io a con n fratto b con n se b con n tende a più o meno infinito 1 su b con n tende a zero quindi mi verrà più o meno infinito per zero che è una forma indeterminata se invece b con n tende a zero mettiamo a zero da destra poi mi verrà zero per più infinito oppure se si tende da sinistra mi verrà zero per meno infinito e quindi in ogni caso questa è una forma indeterminata mi darà una forma indeterminata nel prodotto e quindi le forme indeterminate del rapporto sono queste quattro quindi se io ho una successione al numeratore che diverge una successione al denominatore che diverge a priori non posso dire che cosa succede e non darebbe delle carte se ho al numeratore una successione che va a zero dal denominatore una successione che va a zero anche qui devo andare a vedere caso per caso ok quindi abbiamo fatto più o meno tutto per quanto riguarda le proprietà algebliche vi vedo per quanto riguarda le proprietà algebliche non possiamo dire che possiamo operare le somme e i prodotti con gli infiniti possiamo però dire tramite questi specchietti che abbiamo fatto che cosa succede quando andiamo a fare il limite di una somma o il limite di un prodotto il limite di un rapporto il limite di una differenza allora per quanto riguarda la somma l'unico caso al quale devo stare attento è più infinito meno infinito tutti gli altri casi sono ostanti cioè se uno va a più infinito l'altro va a 5 la somma va a più infinito se uno va a più infinito l'altro va a meno infinito e sto facendo la differenza allora la somma la differenza va a più infinito più infinito meno meno infinito e poi più infinito più infinito e così via quando vado a fare il prodotto anche qui non ho proprio dimostrato tutto per esempio se uno diverge l'altro diverge il prodotto diverge questo fatelo per esercizio è facilissimo attenzione però che dovete rispettare le regole dei segni perché se uno diverge positivamente l'altro diverge negativamente il prodotto è negativo e diverge negativamente chiaro? ok per il prodotto la forma determinata è infinito per zero per il rapporto la forma determinata è infinito su infinito o zero i segni non sono importanti qua potete avere più o meno più o meno ma la cosa è determinata ok i segni sono importanti soltanto per conoscere se conosciamo i segni per esempio qua abbiamo infinito qua abbiamo meno infinito sappiamo soltanto che il rapporto è negativo però il rapporto potrebbe lo stesso divergere a meno infinito lo stesso essere non commercio oppure se il commercio è zero potrebbe commerciare da sinistra certamente se sappiamo il segno se sappiamo il segno dell'accordo possiamo esplodere determinati comportamenti ma più di quello non possiamo farlo va bene allora facciamo un attimo il riepilogo cosa abbiamo visto stamattina abbiamo introdotto la definizione di successione divergente naturalmente questa definizione ha complicato il quadro perché dobbiamo adesso tenere conto che c'è un altro tipo di comportamento possibile abbiamo visto che questo non esaurisce i comportamenti di una successione la successione può non convergere neanche divergere per esempio meno 1 all'n non convergere divergere però abbiamo visto che ci sono valgono determinate proprietà anche se le proprietà algebriche appunto non sono più veramente algebriche nel senso che la retta reale obbiata non è un campo ma valgono certe proprietà però ci sono dei casi in cui io dal comportamento di agonenne e biconenne non riesco in alcun modo a prevedere il comportamento della somma del prodotto del rapporto chiaro? questi comportamenti in particolare li abbiamo e nucleati li abbiamo ben individuati li abbiamo chiamati forme indeterminate infine abbiamo visto il teorema di regolarità delle successioni monotone il che si applicava per esempio alla successione che ci dava e ma si applica a tante altre successioni quindi quando sapete che una successione è monotona beh o con mezzo può diventare se è monotona non decrescente sapete che o con mezzo o diventare se è monotona non decrescente è limitato sicuramente comincia all'estremo superiore ok va bene adesso facciamo una piccola pausa grazie a tutti